Uomini e donne, Anna Tedesco, la rivelazione shock, Anna Tedesco, dama protagonista del Tronover, in queste ultime ore, ha risposto a un fan su Facebook, il quale ha voluto sapere se tornerà, nella prossima edizione di Uomini e Donne, ma la sua risposta, ha lasciato un po' la mare in bocca, scrive lapidariamente, non so se tornerò ancora a Uomini e Donne, buone vacanze, una dichiarazione secca e sibillina, che ha fatto preoccupare immediatamente i suoi tantissimi estimatori, ma cosa si nasconde dietro a questa esternazione, che la dama abbia trovato l'amore, in questi mesi estivi, oppure, visti i toni, potrebbe aver deciso di non partecipare più al programma di Maria De Filippi, probabilmente perché, ancora scottata dalla fine, della sua relazione con Nino, voi cosa ne pensate, fateci sapere come sempre la vostra.